Alla trotta che è nega, dovete venirci a prendere. Doug, fiondatevi. Non voglio casini. E non voglio ficcarti una pallottola in testa, ma se non mi dai esattamente quello che voglio, qualcuno farà una brutta fine. Come ti chiami? Sparagli! Molla immediatamente quella pistola! E così, tu ovviamente sei il grande cazzone. E loro ai tuoi fianchi sono le tue palle. Ci sono due tipi di palle. Palle quadrate e toste. E poi le palline mosce da finocchio. Sono le tue ultime parole, è meglio che le usi per pregare. Vedi, i cazzoni vanno dritti e ci vedono chiaro. Ma non sono intelligenti. Sentono odore di passera. E vogliono mettersi a giocare. E tu credevi di aver fiutato una bella passera. E ti sei tirato dietro anche quelle due palline mosce da finocchio, per divertimento. Però hai fregato in pieno i tuoi compagni. Non c'è passera qui. Solo sifilide. Rimpiangerete di non essere nati donne. Da bravo cazzone, se ci pensi ti ammosci. Cominci a rattrappirti. E le tue palline si rattrappiscono insieme a te. Il fatto che ci sia replica sul fianco delle vostre pistole è che invece ci sia Desert Eagle. Punto 5-0 Sul fianco della mia Dovrebbe precipitare di colpo te e le tue palle nel buco nero. Andate A farvi fottere. Chiudi la porta. Destroggio! Dammi quella valigetta! Vaffanculo! Sparami! Infatti! Adesso ti sparo! Guarda che non sto scherzando! Io ti sparo sul set! Passami valigetta o io ti spara! Sai che ti dico? Vaffanculo pure tu! Avanti, sparami! Mi fai un bel favore, stronzo di urus! Avanti! Voi! Mollate pistole! Vaffanculo! Molla tu il tuo fucile! Annuda mai! Avi! Tirati sui calzini! Tirati sui calzini! Tyron! Catroia! Andiamo via! Dai, ma licenza! avvi! Dov'è la valigetta? Metti via la pistola! Che ci fa qui, Boris? Boris, che cosa ci fai qui? Vaffanculo! Dov'è la valigetta? Pensati in merda! Non fare l'offeso, Boris! Io ti fa vedere! Vaffanculo! Quasi! Porca di quella bagascia! Vaffanculo! Te e gli altri! Che gran culo, brutto bastardo!